yugio a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale allora in primis voglio ringraziarvi tantissimo per il supporto sul primo episodio di questa serie sul pesare le gustine sincero non mi aspettavo tutti questi feedback positivi quindi fratelli miei oggi andiamo sul prato sì lo so che c'è scritto phantom rage però sono di grossi i pacchetti ovviamente prima iniziale vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da card game corner il mio sponsor e con il codice sconto 2023 cappello potete ottenere il 10 per cento di sconto su carte singole e o prodotto sigillato che non è soggetto ad altra offerta inoltre se volete liberarvi di carte di video di magic pokemon dragon one piece force will e digimon trovate il link del mio instagram sotto in descrizione contattatemi e se avete qualcosa da dar via se ne può parlare bene ragazzi abbiamo il nostro bilancino abbiamo i nostri 24 pacchetti di cross usciti nel lontano 2015 quindi quest'anno avrebbero compiuto otto anni ed ora andremo a vedere se questi pack possono essere pesati e se nel caso riusciamo a trovare qualcosa di carino andiamo col primo assieme poi gli altri me ne farò off camera allora perfetto 14 90 bene ragazzi ho finito di pesare i pacchetti e ho fatto pure una bella tabellina almeno così vediamo quanti sono e quanto pesano e ovviamente segneremo cosa troveremo in ognuno di essi ovviamente però prima di andare all'unboxing io mi farei due conti su quello che possiamo andare a trovare perché nel prato c'è roba bellina per quanto riguarda i pool migliori come dice il buon ciccio abbiamo drago sincrona la chiara cristallo sia ulti che ultimi che anche secret infatti poi abbiamo tolomeo nella sua versione ulti e ultra poi una bellissima costoga che sinceramente non me ne privo anzi sarebbe quella che più mi attizza soprattutto perché è una bambina poi vabbè roba random come stesso shadow questo ulti galli a pelio numero s39 sta qualcosina questo belliccia spavento ulti che sincero non vorrei sbustare e poi vabbè qualche samurai super pesante visto che ha alcuni supporti bene ragazzi detto questo io partirei con l'aprire il pacchetto più leggero allora andiamo questo pesa ben 1 e 75 quindi a rigor di logica visto che qua le super non erano garantite mi aspetto la rara allora facciamo il trick se non ricordo male è a 4 1 2 no è a 3 che ho aperto pacchetti vintage anche un'altra volta abbiamo rivolta pendrum gru fluffal ua firma del contratto bolla scudo un artista amico pastinaca dell'abisso spero di sbagliarmi c'è una foil turbine josen e come rara zefranuit segreto yang zing dietro c'è un'altra carta spero a questo punto che sia una foil perché nel caso se ci fosse la foil sarebbe dopo la rara no non c'è niente quindi il trick no è sempre a 3 ma al posto della common ci dovrebbe essere la foil quindi nel pratico per adesso sta andando come previsto il pacchetto leggero non aveva niente allora passiamo ai pacchetti un pochino più pesanti 14 e 8 spero che non siano tutti i pacchetti vuoti se no piango allora dai sbustiamoli come animali e vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa ma tanto nel pratico devo constatare la teoria del pesare quindi nel pratico voglio che qua dentro non ci sia niente ma dall'altra vorrei sbustare qualcosa di carino e non andarci in perdita anche in questo giro come è stato con il team di redox allora in profilo di catena stato della scherma della pena poi raid raptor lanius affilato scudo specchio lunare che questa come rara non è malissimo e poi cammino zephra quindi primo pack da 14 e 8 come constatato non contiene niente allora andiamo con il trick ovviamente 1 2 3 e andiamo con la prima abbiamo bambalombra zephra nucleo poi dominatore best spirito drago di magma è lo stesso ah non l'abbiamo sbustato no era quello che avevo visto prima poi artista amico pesca lucertola in profilo di pelliccia venoid turbine yosen fusione pelliccia spavento e cammino zephra ovviamente ragazzi non c'è niente non mi dovevo aspettare altro il problema è che dopo quando andremo sui pacchetti pesanti se è la stessa cosa io inizio a toccarmi il portafoglio per capire quanti soldi sono andato a perdere ma dettagli si fa per amore della scienza ovviamente non perché la prossima volta posso pesare i pacchetti e tirare fuori solo la roba che mi serve e il resto rivendermelo su car market assolutamente non sono questo tipo di persona abbiamo zephraxa cammino zephra poi zephra sciabola demone sofferente almeno una common decente poi pecora fluffal statua dello schema della pena soprano zephra axiton che praticamente non sapevo fosse axiton satella poi abbiamo segetto bene 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 sta andando tutto secondo i piani ragazzi come vi avevo detto le carte hanno pesi differenti allora allora vorrei salvaguardare un pacchetto perché lo vorrei mettere in collezione allora tanto qua non ci dovrebbe essere sempre niente 1 2 andiamo abbiamo un altro zephraxa prescelto di zephra budino ragazzi io queste carte non le vedevo penso da 8 anni come abbiamo detto prima infilo di sega infilo di sega falco fiammata ma ragazzi l'umorismo veramente becero e zephra sciabola adesso che ci penso non so neanche se ho mai aperto questi pack ma credo di sì allora come avevamo constatato anche questi da 14 e 8 non contenevano assolutamente niente adesso continuiamo a salire con 14 e 84 questo giro mi aspetto non dico di trovare qualcosa ma qualche super sarebbe ottima almeno allora anche se comunque non ci spero allora considerate ragazzi che sono pacchetti sfusi non sono un box quindi nel pratico potrebbero essere tutte common come tutte foil diciamo ho fatto così tanto per rendere l'esperimento più veritiero allora 1 2 e 3 vediamo dai stesso giro c'è qualcosa comunque se ci fate caso queste carte vecchie sono stampate meglio non c'hanno i bordi che si spaccano vuol dire che all'epoca il controllo qualità prezzo no il controllo qualità prezzo il controllo qualità era fatto veramente meglio come vedete anche gli angoli davanti non sono sfanculati comunque di nuovo demone sofferente molto buona turmine yosen la carta samurai super pesante che fa il saluto fascista lo sapevamo è un archetipo per i verdi e poi abbiamo supporto di fusione cibernetica ragazzi ma l'avete lasciato il like il commento l'iscrizione perché probabilmente se questo video vi sta piacendo vi piaceranno anche tutti gli altri che trovate sul canale quindi iscrivetevi che prima di fine anno mi piacerebbe arrivare a 10k grazie a tutti quelli che lo faranno andiamo avanti con il secondo pacchetto e continuiamo a costatare la nostra teoria il problema è capire quanto va avanti la costatuzione che non deve andare avanti fino all'infinito 1 2 e 3 abbiamo designier perliccia spavento tuonorino ceronte desk bot 004 artista amico okomolla un altro artista amico pecora fluffal soprano la cantante mediosa rinascita sutura e come ultima sefranica quindi ragazzi fino a 14 e 84 praticamente è tutta falta bene ragazzi attualmente mi iniziate a vedere preoccupato un pochino un pochino sì poi mi preoccuperò più avanti allora andiamo adesso con i quattro pacchetti che pesano 14 e 9 vediamo se a questo giro riusciamo a tirare fuori qualcosa di umanamente decente allora vediamo 1 2 e 3 abbiamo carta bestia spirito carta ua carta per i supporti di macchina poi fabbrica pelliccia spavento lanius turbine iosen okomolla zefraniu e carta artista amico comunque ragazzi io da questo set vorrei tanto sbustare la gostogre più che altro perché all'epoca la trassaio un bambino in spiaggia quindi vorrei ritirarla fuori visto che dopo l'ho venduta per tre decoici ulti e tipo 40 euro visto che non era nm il problema è che quei decoici l'ho dati via che stavano tipo a 10 a 10 15 euro l'una attualmente si aggirano sui 30 tipo cad messi in malissimo quindi che bella la vita abbiamo aiuto di rimpiazzo artista amico drago di magma designier pelliccia spavento o camolla perché molla poi potrei aver visto una foil ma non c'è credo ah ok c'ha una molla nel busto va bene poi pecora fluffa raid raptor lanius schuberta la maestra melodiosa non la volevo non volevo lei però dai un pull l'abbiamo tirato fuori che bello che soddisfazione allora togliamo questa cazzo di desire e mettiamoci questa chimera pelliccia spavento ulti in prima edizione poi che bello dopo andremo a vedere i prezzi quindi da 14 90 potrebbe iniziare a uscire qualcosa quindi posso iniziare a sperare di non andarci in meno che cosa incredibile comunque incredibile come dalle ultime uscita più spastica vabbè meglio di niente poteva essere un'altra rara artista amico caval balestra raid raptor fabbrica pelliccia spavento un barbaro onesto bellino questo e zephra niga vabbè vabbè oh dai un ba c'è posto sta allora comunque ragazzi abbiamo ancora un sacco di pack da aprire quindi nel pratico la possibilità di pullare anche qualcos'altro non è poca allora allora abbiamo zephra sciabola potrei aver visto un'altra ultima non ci credo dai è impossibile poi io ho un culo incredibile soprattutto quando i pacchetti li pago rispetto a quando me li mandano demone sofferente in filo di sega la chimera perliccia spavento così l'abbiamo in tutte e due le fucking diversioni e c'avevo ragione porca troia e siamo con la seconda ulti forse abbiamo trovato il peso delle ultime ragazzi però non è tolomeo vabbè dai ripropongo poteva non esserci togliamo la busta a un'altra design e mettiamoci anche bestia spirito ulti galli appello bene segniamo che a 14 e 90 due per di un quelle brutte ma sono sempre ultime allora mettiamole qua come porta fortuna e andiamo avanti 14 e 93 quindi essendoci qualche centigrammo di differenza potrebbero esserci anche qua perché il bilancino comunque poverino è un bilancino da 7 euro quindi vediamo allora andiamo avanti comunque sono tutte in prima edizione quindi top mi posso ritenere molto soddisfatto allora 1 2 e 3 abbiamo uno zephra necrozzo uno yosenju un soprano la cantante melodiosa rimbalzista artista amico caval balestra turbine yosen il satella di merda e carta e probabilmente siamo ritornati al momento in cui possono uscire solo comuni vediamo se riusciamo a salvare questo pack opening perché attualmente ancora non si è ripagato abbiamo zephraxa cammino zephra dominatore samurai super pesante raid raptor lanius imp filo di catena fabbrica periccia spavento mostro normale pendolo che non serve a nessuno e la prima super scomparsa nel vuoto come ho visto l'altra volta le super pesavano un pochino di più delle ulti quindi nel pratico a questo giro dovremmo trovare solo super se vogliamo metterla così allora andiamo col prossimo io spero di essermi sbagliato con il pesaggio delle bustine perché se mi esce un'altra ulti ed è tolomeo posso aver svoltato il pack opening abbiamo un'altra carta necro toros firma del contratto caval balestra lanius affamato un altro demone sofferente che comunque non me ne privo pecora fluffal un altro mostro normale pendolo e poi abbiamo niente una carta zephra di merda inutile andiamo con l'ultimo e vediamo comunque strano che mi sia uscita una sola super qua pensavo ce ne fosse qualcuna di più abbiamo sjet carta artista amico pistinaca dell'abisso carta del mio fratello alvini demone sofferente un raid raptor abbiamo anche un'altra ultra e poi vabbè niente abbiamo un magi dolce pudincipe sorellina cioccolato alla moda tanto diciamo tra le ultra non c'era niente di interessante quindi nel dubbio va benissimo quindi a 14.93 abbiamo trovato una ultra e una super quindi nell'ottica i pacchetti più pesanti adesso dovrebbero contenere foil ancora più belle forse questo d'agosto andiamo adesso con i pacchetti che pesano praticamente 15 15.01 14.99 vabbè tutti i pacchetti che stanno in quel range praticamente allora andiamo con il primo a sto punto so gasato perché me ci fai crede che io posso veramente pesare i pacchetti vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa abbiamo destino cane bambola zephra nucleo supporto di fusione cibernetica imp filo di catena la paperella spastica poi l'anius affilato schiacciatore vabbè il michael jordan della situazione rinascita struttura e poi andiamo adesso con il prossimo comunque ragazzi un'idea di come sono strutturati i pacchetti me la sto facendo eh avendoli pesati e vedendo un po' quello che sta uscendo auto di rimpiazzo artista amico pastinaca dell'abisso fabbrica pelliccia spavento l'anius affilato l'anius imitatore ancora rottame e poi eh niente supporto di nucleo cibernetica dai almeno qualcosina non dico tanto vorrei boh tipo non andaccia perde del tutto allora uno due e tre 100 100 che in questo pack non c'è niente abbiamo rimpiazzo artista amico drago di magma infernoid imp filo di sega perché imp filo di sega porca droga pastinaca dell'abisso l'anius scudo specchio lunare e poi abbiamo un'altra ultra bestia spirito ulti galli a pelio vabbè non è tolomeo vabbè meglio di niente dai remetto potevano essere tutte common andiamo a vedere comunque ragazzi non è uscita ancora una secret eh allora trick a 4 e sarebbe molto bellino tirarne fuori una tipo ghost ogre zefra niga bamba l'ombra zefra nucleo supporto peggio spavento peggio la fluffa sega catena un'altra chimera pelliccia spavento se vi ricordate prima dopo dopo questa c'era una ulti vediamo cosa c'è porca 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 no no ragazzi senza senso senza senso ragazzi no no ragazzi no sto volando porca no si ragazzi non c'ha senso non c'ha assolutamente senso è una cazzo di ghost ogre in prima edizione perfetta sbustata nel 2023 vaffanculo no ragazzi ragazzi adesso sto molto scialla cosa ho detto in questa busta non sbusto niente ma vaffanculo uno due tre quattro vediamo se riesco a tirare fuori qualcos'altro ma col culo che ci ho avuto penso che oramai ho dato tutto cabina di punizione venti fraudolenti tuono rinoceronte nuovo cast artista amico imp filo di catena samurai super pesante gigaguanti samurai super pesante varaci vabbè carta di merda totalmente inutile e poi ah no avevo fatto il trick male vediamo vediamo dai andiamo con l'ultimo e poi andiamo a 15.06 abbiamo spadaccino necro fiamma del necro supporto zephra turbine yosen artista amico carta raptor demone sofferente ancora da rottame e vediamo dopo cosa c'ho una super draghig ok tanto abbiamo visto che le super pesavano abbastanza quindi ci sta comunque se ci fate caso in queste vecchie super la filatura era su tutta la carta quindi ci sta che pesino veramente tanto forse anche più della super che avevamo pesato nello scorso video allora qua mettiamo una super una ultra e mia sorella ghost ogre bene adesso andiamo col peso 15.06 e vediamo se riusciamo a pullare qualcos'altro oggi sono proprio in in modalità ciccio è incredibile forse è lui che mi porta fortuna allora andiamo 1 2 e 3 quindi teoricamente in questi pack dovrebbe esserci qualcosa allora abbiamo prescelto di zephra zephra sciabola ua firma del contratto demone sofferente imp filo di pelliccia spavenoid pecora fluffal artista amico martello fante e vediamo un'altra super colpo di vino di zephra quindi ragazzi possiamo iniziare a farci una mezza idea andiamo con il penultimo pack di questo unboxing incredibile è un unboxing senza senso andiamo di 1 2 e 3 vediamo qua abbiamo zephra nucleo designer pelliccia spavento secondo me qua c'è un altro super prescelto di zephra artista amico pesca lucertola o camolla mia sorella stato e lo schermo di pena imp filo di catena poi dominatore bestia spirito zephra e ok dain aspettato infatti me lo aspettavo tanto queste pesavano veramente tanto e concludiamo col pacchetto più pesante di questo unboxing 15 e 11 nel pratico mi aspetto una foil qua dentro quindi o c'è una super o c'è la ghost chiedere la ghost forse è veramente troppo però ci si può sempre sperare allora 1 2 e 3 abbiamo farfalla primitiva venti frastornanti zephra niaga samurai super pesante giga guanti schiacciatore carta samurai super pesante imp filo di tonaha wk e per concludere un'altra super ok dai ragazzi ci posso stare non mi posso assolutamente lamentare di quello che abbiamo sbustato perché ragazzi 24 pacchetti abbiamo beccato doppia ultimate vabbè un po' di super random 2 ultra caso e mia sorella costover adesso quando finisce il video ci vado a sbordare ragazzi ora possiamo tirare le somme in merito ai pack tgc sono pesabili? ni ma vi spiego perché allora partiamo dai pacchetti più leggeri quello da 14,75 quelli da 14,8 e quelli da 14,84 nel pratico almeno per quanto riguarda la mia esperienza poi ovvio il campionera di 24 pacchetti ci sarà tempo di riprovarci anche più avanti però per quanto almeno riguarda me all'interno non contenevano assolutamente niente poi per quanto riguarda i 4 pacchetti da 14,9 siamo riusciti a trovare due ulti infatti come abbiamo visto nel video dell'altra volta le super nel pratico pesavano più delle ulti quindi ci sta che siano uscite adesso poi salendo a 14,93 abbiamo avuto una ultra e una super a 15 una super una ultra e una secret a 15,06 due super e a 15,11 un'altra super peccato che non era la cosa ovviamente da come avete potuto vedere non c'è stata una progressione lineare in merito a quello che usciva nelle bustine questo perché il peso del pack stesso da pack a pack può cambiare in quanto probabilmente i tagli superiori e inferiori della bustina sono differenti e quindi possono far variare quei centigrammi che ti fanno credere che ci sia all'interno una foil però ovviamente da come potete vedere la percentuale di uscita di una foil sale drasticamente detto questo ragazzi fatemi sapere voi con un commento qua sotto cosa ne pensate ah ve la butto lì se questo video raggiunge i 70 mi piace prossimamente andremo a pesare i pack giapponesi e coreani per vedere se anche quelli sono pesabili detto questo ragazzi state ben isi e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti